La parola delle parole credo sia difficile in questo momento, soprattutto avendo assistito quando è venuto in chiesa la moglie, il bambino, credo ci sono parole. Se discute tanto anche dei rischi, polemiche sul casco, su queste segnalazioni, chi pensa che siano inutili e solo fatalità? Sicuramente c'è una grossa componente di fatalità in tutti i casi che abbiamo assistito di chi è caduto in bicicletta, si è fatto male, sono caduti in sei corridori, i due sono andati fuori, lui ha avuto la sfortuna proprio di centrare questo baracarro così in cemento e purtroppo è stato fatale, se scivolava 50 centimetri prima o 50 centimetri dopo forse oggi non saremmo qui a commentare niente, sarebbe stata la cosa migliore. Grazie. Grazie. Grazie.